Al teatro Carignano va in scena lo spettacolo Il Misantropo, dalla celebre opera di Molière. L'adattamento del testo e la regia sono di Leonardo Lidi. Le repliche dal 17 al 22 maggio saranno accessibili con audio introduzione e tramite sottotitolazione in italiano e in francese, con tablet, smart glasses e smartphone forniti dal Teatro Stabile di Torino. Lo spettacolo è in programma da martedì a domenica con i seguenti orari. Martedì, giovedì e sabato ore 19.30. Mercoledì e venerdì ore 20.45. Domenica ore 15.30. La durata dello spettacolo è di 1 ora e 20 minuti senza intervallo. Il Misantropo è uno dei testi più celebri del drammaturgo francese Molière, messo in scena per la prima volta a Parigi nel 1666. Il protagonista di questa commedia amara, Alceste, interpretato da Cristian Larosa, è un moralista intollerante. È innamorato e geloso di Selimène, interpretata da Giuliana Vigogna. Una giovane vedova che cerca di vivere con spensieratezza la sua vita. Filinte, interpretata da Orietta Notari, è una cara amica di Alceste. Gli offre i suoi consigli affettuosi ed è per questo più esposta alle sue intemperanze. L'artista oronte, interpretato da Alfonso de Vries, è uno degli spasimanti di Selimène, ed è considerato da Alceste superficiale e mediocre. Arsinoè, interpretata da Francesca Mazza, è una vedova che cerca di attirare le attenzioni di Alceste e screditare Selimène. Eliante, interpretata da Marta Malvestiti, è cugina e amica di Selimène. Un uomo, con il viso coperto, interpretato da Riccardo Micheletti, accompagna Alceste, in silenzio, in molte scene. Questa figura enigmatica rappresenta ciò che lo perseguita. Il segno negativo delle sue azioni, la mascolinità tossica, la sua gelosia. I personaggi si ritrovano a casa di Selimène durante una festa. Alceste vive gli altri come un pericolo per la sua integrità, come una minaccia all'amore che Selimène può provare per lui. Quindi, dopo aver perso un processo, decide di ritirarsi lontano dalla società, cercando di convincere anche lei a lasciare la città e le sue tentazioni. Inevitabilmente, la diversità dei loro caratteri e l'ostilità dei toni di Alceste rendono difficile ogni progetto condiviso. La scenografia trasporta l'intero spettacolo nello spazio mentale di Alceste, al centro del suo desiderio di isolamento. È un deserto scarno composto da dune di sughero e gomma che occupano l'intero proscenio. Le piccole dune presenti sono abbracciate da una parete di legno grigia a semicerchio di 15 metri di diametro, profonda 10 metri e alta 7 metri. Al centro di questa parete c'è un varco, dal quale entrano ed escono gli attori e le attrici. Alceste e gli altri personaggi si muovono in questo ambiente desolato, anche quando l'azione si sposta dentro la casa di Selimène, nella quale si svolge la festa. I personaggi indossano abiti eleganti e scuri, tranne Eliante, che indossa un abito argentato di paillette. Alceste si appoggia a un bastone, che lo aiuta ad avanzare in un mondo che lui considera ostile. Durante la festa ci sono 21 marchesi in smoking col volto coperto, interpretati dagli allievi della scuola del teatro stabile. Molière è uno degli autori più apprezzati e rappresentati del teatro classico francese del XVII secolo. L'acuta critica sociale verso cui sono orientate le sue commedie ha reso celebre i suoi lavori in tutto il mondo. Leonardo Lidi è regista e interprete teatrale e cinematografico. Si è formato alla Scuola del Teatro Stabile di Torino. Ha ricevuto importanti riconoscimenti in ambito teatrale. Per il triennio 2021-2023 è artista associato del Teatro Stabile di Torino ed attualmente è vice direttore della Scuola per Attori del TST diretta da Valerio Binasco. E' l'amore che deve tornare al centro del nostro pensiero intellettuale perché una persona al nostro fianco è differente da un computer acceso sul nostro letto. Sarà l'amore a salvarci dalla nostra autodistruzione? Per ricevere maggiori informazioni su orari, prezzi e modalità di accesso contattaci all'indirizzo accessibilità-teatrostabile-torino.it o al numero di telefono 011-5169-460 Per organizzare al meglio la tua accoglienza ti chiediamo di prenotare in anticipo i biglietti contattandoci e specificando eventuali necessità all'indirizzo biglietteria-teatrostabile-torino.it o al numero di telefono 011-5169-555 Le persone con disabilità hanno diritto al biglietto ridotto e in caso di necessità l'eventuale accompagnatore ha diritto all'ingresso omaggio. Grazie a tutti.